Si avvicina la super sfida di domenica prossima, l'Angelini contro l'Aquila, fischio d'inizio alle ore 15. Il derby metterà di fronte due squadre ambiziose, costruite per disputare un campionato di vertice. Il Chieti si prepara al big match, puntando ai rientri di Ardemagni, Diambo, Forgione e Vesi, tutti assenti domenica scorsa ad Ascoli tra infortuni e squalifiche. Quello che abbiamo visto ad Ascoli non rispecchia il vero valore tecnico della squadra, perché erano fuori giocatori importanti, che per noi sono titolarissimi. Mi aspetto di vedere una squadra che torni ad essere propositiva e che abbia in mano il pallino del gioco, le parole del presidente onorario Cristian Poglio. Mister Chianese pensa anche di giocarsi dal primo minuto la carta barlafante, l'attaccante scalpita per una maglia da titolare dopo essere stato penalizzato dalle scelte del tecnico nelle prime due gare ufficiali tra Coppa e Campionato. La cornice di pubblico sarà di categoria superiore all'Angelini, ai 700 abbonati teatini si aggiungono i 300 tifosi ospiti in arrivo. Si punta a non meno di 2.000 presenze. Biglietti in vendita allo Stadio Angelini per i tifosi di casa in Curva Volpi e prevista anche una coreografia della tifoseria organizzata per accogliere la squadra all'ingresso in campo. Oggi infine si chiude il mercato dei dilettanti. La società Nero Verde sta valutando l'ingaggio di un altro under per completare la rosa. Potrebbe arrivare un terzino.